Wow, ragazzi, ma che cos'è tutta questa fretta? Ah, state gareggiando per vedere chi troverà il primo uovo di Pasqua? Vedete qualcosa? E tu che mi dici, Carl? Ebbene, buona fortuna! Carl, aspetta, fermati un secondo! Ehi, mi dispiace interromperti, ma c'è un'emergenza! Oh no, i piccoli non riescono a trovare nemmeno un uovo! Walter li ha nascosti fin troppo bene! Puoi dare loro una mano a cercarli? Tu sei particolarmente bravo a giocare a nascondini! Questo dovrebbe essere un caso molto facile per te! Non preoccupatevi piccoli! Il super camion è qui! Lui e Walter troveranno le uova in men che non si dica! Coraggio, andiamo a cercarle! Vedi qualche uovo, Walter? E tu che mi dici, super camion? Niente! Oh, aspettate! Guardate, un po' di dolci! Oh, siete stanchi, piccoli! Oh, ciò è molto carino da parte tua, super camion! Ma penso siano molto stanchi e potrebbero avere bisogno di un passaggio! Oh, wow! Sei una super auto da trasporto! Questo è perfetto per dare un passaggio ai piccoli! Tutti a bordo! Piccoli, buona fortuna con la vostra ricerca! Avete già trovato qualcosa? Guardate tutti! Super camion ha trovato qualche uovo! E voi vi siete ricordati di dove sono tutti gli altri? Da Carrie! Bene allora, andiamo! Oh, cielo, che c'è che non va con i piccoli? Ah, penso tu abbia ragione! Guarda, le uova si stanno sciogliendo a causa del sole! Super camion, allora che facciamo? Usiamo l'ST3000! È una grandiosa idea! State indietro e ognuno di voi chiude i suoi occhi! Il raggio refrigerante è abbagliante! Wow! È un bellissimo lavoro, super camion! Questo le terra fresche mentre arriviamo da Carrie! Adesso potete aprire i vostri occhi, ragazzi! E ora andiamo a prendere il resto delle uova! Urrà! Le uova di Pasqua finalmente sono arrivate! Carla, senza di te non saremo mai riusciti a trovarle! Oh, wow! Un'altra sorpresa pasquale! Grazie per le gelatine, Carrie! Buona Pasqua a tutti quanti voi! Ci vediamo la prossima volta! Sembra che la squadra costruzioni si sia presa una pausa e Carla stia giocando un po' a pallavolo! Ups! Ah ah! Devi fare più attenzione, Carla! Oh oh! A qualcuno serve il super camion! Devi andare, Carla! Carl, abbiamo una situazione da risolvere al circuito! Jerry stava attraversando il super anello quando Ben accidentalmente ha rovesciato della colla sul percorso! Jerry ci è andato sopra e adesso è incastrato! Entrando nell'anello ha cominciato a rallentare ed è rimasto incastrato proprio nel punto più alto! Oh! Oh! Oh, la colla è dappertutto! Ehi Ben! Fai attenzione! C'è mancato veramente poco! Non conviene guidare sulla super colla altrimenti rimarrai incastrato anche tu! Cosa dici, super camion? Pensi che questa sabbia potrebbe riuscire a neutralizzare la colla e quindi a rendere il percorso di nuovo fruibile? Molto bene, ma come riuscirai a portarla fin lassù? Ah! 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 Grazie a tutti. Sì, la sabbia ha neutralizzato la colla e ora non è più appiccicosa. Oh cielo, ma guarda il sole! È veramente caldissimo oggi! Oh no! Le alte temperature stanno sciogliendo la colla! Jerry potrebbe cadere in qualsiasi momento! Super Camion, fai qualcosa! Ah, ben fatto, Ben! Mi stai dicendo che questo dovrebbe proteggere Jerry in caso di caduta? Ok, ma non possiamo aspettare che lui cada! Super Camion! È veramente troppo alto! Non riuscirai mai a raggiungerlo in questo modo! E neanche così sta funzionando! Penso che ci sia un solo modo che può aiutare! L'ST3000! Oh, capisco! Stai per tagliare con il laser tutta quanta la colla! In questo modo Jerry potrà cadere su quella pila di gomme! Sei un genio! Però fai attenzione, Super Camion! Non vorrai colpire Jerry con quel raggio laser! Ce l'abbiamo quasi fatta! Sì! Jerry, stai bene? È tutto ok? Qual è il problema, Jerry? Oh, sei preoccupato che si sia danneggiato il Super Anello? Oh cielo, e che cosa vuoi farci? Cosa, Super Camion? Puoi pulirlo? Ma come? Ben fatto, Super Camion! Sei riuscito a pulire l'anello! E ora Jerry può attraversarlo un'altra volta! Non è vero, Jerry? 3, 2, 1, via! Sì! Ce l'ha fatta! Urrà! Grazie, Super Camion! Ancora una volta! Hai salvato la giornata! Wow! Guarda, Jerry, come va! Fa un certo effetto, eh, Walter? Ehi, c'è mancato poco! Oh oh! Sembra che voi ragazzi serva aiuto! Chiamiamo in causa il Super Camion! C'è qualcosa che non va con Jerry e Walter! Non hanno un bell'aspetto! Dai, vieni subito! Dai, vieni subito! Super Camion! Eccoli lì, Super Camion! Oh cielo, sembra che avremo bisogno di un veicolo in grado di curare! Eccolo lì! wow una superambulanza fantastico perché non usi le tue luci per dare un'occhiata alle gole agli occhi di jerry e walter apri per bene jerry non andiamo così bene che c'è che non va walter non preoccuparti il super camion vuol solo capire come farti stare meglio è vero super camion ecco ti qua e ora di la stessa cosa e ora che si fa delle mascherine da dottore è una grande idea super camion così i germi smetteranno di circolare per car city non hanno un bell'aspetto super camion oh no hanno anche la febbre sembra proprio che ci tocchi usare l's t3000 per un aiuto extra non preoccupatevi ragazzi la superambulanza vi farà sentire meglio prestissimo ah si abbassa potenza il raggio refrigeratore li raffredderà e farà scendere la febbre sei un genio ma forse prima dovresti fare un piccolo test si tratta di un pochino troppo freddo bisogna abbassare la potenza super camion così va molto meglio ok siete pronti non c'è bisogno di essere nervosi il super camion si sta prendendo cura di voi wow guarda guarda un po' benissimo super camion sei riuscito a vincere la febbre il super camion ha ragione ragazzi dovreste andare a casa e prendere un po' di riposo cercate di guarire presto e sembra che voi stiate molto meglio dopo un po' di riposo e walter è uno che impara in fretta sembra che tu ce l'abbia fatta ancora una volta super camion ben fatto divertitevi ragazzi ci vediamo più tardi ciao dai cosa stai facendo sembra un gioco molto divertente wow tutti voi ragazzi state mettendo a posto le cose per natale ma è magnifico ehi Edna attenta con quei tronchi fai attenzione Edna la palla luminosa sta venendo contro di te oh no la palla ha provocato un fuoco con i tronchi e si sta espandendo molto velocemente in una situazione così può aiutarci solo il super camion Carla abbiamo bisogno di te Billy è stato un po' sbadato ed ha provocato un incendio al cantiere per favore vieni ed aiutaci super camion bravo grazie Tutta l'entrata è avvolta dal fuoco. Devi spegnere questo per primo se vuoi salvare i tuoi amici. In che cosa ti trasformerai? Tutta l'entrata è avvolta dal fuoco. Un camion dei pompieri! Un'idea eccellente! Ben fatto, super camion! Ma sì, veloce! Ci potrebbero essere degli altri fuochi dentro! Per prima cosa vai all'albero di Natale! Altrimenti il Natale sarà rovinato! Ottimo lavoro! Abbiamo ripreso il controllo della situazione! Edna, Billy, state beni! Ma aspetta un attimo! Dov'è, Dave? Oh no, eccolo qua! Ed è bloccato dall'impalcatura! Super camion! Non ce la farei mai a prendere la scala antincendio! Coraggio, super camion! Pensa! Sì, è il momento di usare il tuo ST-3000! Devi andare su, super camion! Su, su e su! Eccolo lì! Cerca di non andare troppo vicino alle fiamme! Attaccati! Oh no! Mantieni la calma, Dave! Il super camion sta spegnendo il fuoco! Sarà tutto finito, in men che non si dica! Ben, stai bene? È tutto ok? E voi? State tutti bene? Ben fatto, super camion! E sei riuscito a salvare l'albero di Natale! Buon Natale a tutti quanti! E fate attenzione con il fuoco! Ehi ragazzi! Oh, state celebrando il giorno di San Patrizio! Oh, state insegnando loro la danza tradizionale irlandese! Ma è una cosa bellissima! È meglio che tu faccia in fretta, Carl! Carrie ha chiesto a Ben e Gary di portarle una pentola d'oro e un arcobaleno di cartone per decorare il suo ristorante! Ma mentre andavano al ristorante di Carrie... È meglio che tu li aiuti! Ah-ha! 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 Oh oh, pensi che il nostro amico abbia causato tutto quell'ingorgo? E cosa ha intenzione di fare? Ehi, quella è la faccia delle grandi idee! Ehi, questa è la faccia delle grandi. Un supertreno! Oh, e ora andiamo! Sei così veloce! Che sta succedendo, supercambio? O forse dovrei dire supertreno! Oh no! Carl! Oh, ci è mancato veramente poco! Ma dove state andando tutti? Oh, grandioso! Ma per il momento Super Camion ha un'emergenza da gestire! Grazie ragazzi! Ci vediamo al ristorante di Carrie! Oh, che disastro! Ragazzi, state bene! Super Camion, devi assolutamente fare qualcosa! Un magnete! È una cosa furba! Fate attenzione ragazzi! Oh, ci è mancato proprio poco! Dovreste sbrigarvi ragazzi! Penso che Carrie vi stia aspettando! Nemo, no! E anche tu dovresti andare al ristorante di Carrie, no? Ehi, Carrie! Mi sembra un party strabiliante! Oh, questo è uno splendido modo di ringraziare il Super Camion, ragazzi! Bravi! Ciao piccoli! Cosa state guardando? Oh, wow! Che bellissimo albero di Natale! Ben fatto, Carrie! Il tuo albero di Natale è magnifico! Ai tuoi ospiti piacerà un sacco! Esatto! Ci saranno anche i regali! Babbo Natale li ha dati a Penny, che li sta portando proprio ora! Siete eccitati, piccoli! Oh, ciao Penny! Stai portando i regali di Natale nel negozio di Carrie per il party! Oh, no! Che cos'è questo suono? C'è qualche problema? Fai attenzione, Penny! La tua botola si sta aprendo! Oh, no! I regali! E ora che cosa faremo? Carla! Veloce! Penny nei guai! Le serve aiuto dal super camion! Oh, no! Oh, no! Guarda, super camion! Penny è laggiù! Non preoccuparti, Penny! Super camion è qui per aiutarci! Super camion! Penny stava portando i regali da Babbo Natale fino al negozio di Carrie, ma le sono caduti giù dalla botola! Sì, è terribile! Tutti gli ospiti si aspettano i propri regali! Devi trovarli e riportarli indietro in tempo per il party! Vai, super camion! Trasformati! Hetradi! ... Sì, sì. fai veloce super camion il party inizierà presto sei sicuro sia stata una buona idea trasformarsi in un'auto ribaltabile se lo dici tu penso che una macchina da corsa sarebbe stata la cosa migliore c'è qualche regalo qui o sì dietro di te veloce super camion carica il regalo e poi proseguiamo dobbiamo trovare tutti gli altri ne è rimasto uno solo da trovare super camion proviamo a dare un'occhiata nel parco super camion riesce a vedere l'ultimo regalo sei sicuro di non vederlo prova a guardare dietro di te eccolo lì sul ramo ma come farai a raggiungerlo oh super camion non sembra funzionare eh no non funziona proprio devi usare il tuo st 3000 è un'ottima idea super camion ok super camion ora smetti di girare intorno il party sta per iniziare prendi il regalo e andiamo ottimo lavoro no andiamo al party di carri non preoccuparti carri il super camion sarà qui prestissimo oh 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 sta arrivando super camion con i regali tutti quest'anno sono stati buoni e quindi tutti hanno diritto ad un regalo buon natale a tutti quanti